Per il secondo anno consecutivo il Brambilla Sagradia Torso vince il torneo di bicisoccer. Matteo Valenti giunto alla quindicesima edizione di fronte a circa 2.500 spettatori. Ha battuto per 4-3 all'extra time la Clinica iPhone. Primo tempo 2-0 per il Brambilla, gol di Genovali e Comelli nella ripresa. Petracci a corsa alle distanze per gli ospiti. Puoi maggiorare ancora in gol per il Brambilla, per il Clinica iPhone. Con Valenti e Petracci all'extra time è stato Majorana a regalare il trofeo alla sua formazione con il punteggio di 4-3. Andrea Masiello, difensore dell'Atalanta prossima in Champions League, ha presenziato alle premiazioni di tutte le squadre. Miglior portiere Matteo Rizzate del Brambillas, capocannoniere Giacomo Petracci della Clinica iPhone. Miglior giocatore Gianmarco Gerovalli del Brambillas. Bella anche la cerimonia di apertura commovente in ricordo di Matteo Valente e anche di Alessandro Cecchi scomparso in un incidente stradale. Commosso al termine della manifestazione l'organizzatore Stefano Santini. Di 39 squadre oltre 600 iscritti ma soprattutto la partecipazione della città, questo è quello che veramente ci fa rendere conto che la strada è quella giusta perché dieci giorni sempre tutto pieno. Non è la serata finale che quella è stata il culmine ma veramente tutti i giorni, da lunedì, martedì, mercoledì, sempre una partecipazione incredibile delle persone che sono messe qua come per, non solo per vedere lo sport ma anche per sentire la musica, per stare insieme a noi, per ricordare Matteo ma soprattutto per riunirsi nel nome di Viareggio, nel nome di uno sport che sta crescendo tanto e che ci vede sempre più protagonisti.